Andiamo. Sì, eccolo, eccolo qui. Allora, guarda quanti tifosi, Giancarlo, in mezzo alla festa della Renault, una grandissima gara, la tua, grande spirito di sacrificio, molto solido, consistente per la squadra tutto l'anno. Sì, abbiamo fatto un lavoro bellissimo, oggi meritavo molto di più, oggi è una grande macchina, però dovevo difendere le posizioni dietro di me e quindi ho lasciato andare Fernando, però ecco, avevamo un ottimo motore, un'ottima macchina e potevo vincere anch'io. Poi non so perché mi hanno dato il drive-thru, ho perso la possibilità di andare sul podio, di questo mi dispiace moltissimo, però chi mi ha fatto la stessa cosa in Belgio non l'hanno penalizzato, però vabbè, siamo campioni del mondo lo stesso. Questo è il primo mondiale per te, costruttori, l'anno prossimo però ci vuoi diventare tu campione del mondo piloti. Certo, l'obiettivo adesso, uno l'ho fatto, ma anche quello più importante per me è quello dei piloti, ci darò il massimo il prossimo anno, la squadra mi aiuterà moltissimo, siamo molto uniti, come potete vedere. Ok, grazie allora, grazie. Grazie. Grazie.